Cosa ne sarà del palazzetto dello sporto di Nocera Inferiore? Dopo l'apertura in pompa magna dello scorso 20 dicembre, ora la struttura è chiusa, in attesa di prendere vita. Ma chi lo dovrà gestire? In queste settimane di festa non c'è stato troppo tempo per discuterne, ma nei corridoi e nelle stanze di palazzo di città qualche ipotesi è stata fatta. C'è chi propone di affidarlo alla multiservizi, chi pensa invece alle associazioni sportive cittadine. Il sindaco Maglio Torquato ha una sua idea, che sarà esplicitata molto probabilmente in un avviso pubblico, così come accennò al taglio del nastro il delegato ai lavori pubblici Ciro Amato. E se pur tutto sembra immobile, qualche ingranaggio si sta comunque muovendo. Il primo cittadino ha svelato infatti che nelle prossime settimane il palazporto di Viale San Francesco sarà protagonista di alcuni eventi. L'affidamento è oggetto di discussioni proprio in questi giorni all'interno dell'amministrazione. Ne ho parlato con l'assessore di settore, con l'ingegnere responsabile dell'ufficio tecnico, per approntare un'idea di gestione. Io scarterei l'idea che è stata proposta da un consigliere di opposizione al consigliere Annello di affidarla a multiservizi, perché ricordo i tempi in cui l'esponente del Partito Democratico voleva affidare alla multiservizi persino il teatro comunale di Ana, che è quanto dire, è una cosa assolutamente sballata, affidare il palazzetto dello sporto che ha bisogno non semplicemente di una custodia, ma di una gestione, di un'organizzazione, di un servizio con un apparato come la società partecipata, che deve occuparsi di altro, credo che sia totalmente sbagliato. Immagino invece che vi sia una gestione mista tra soggetti privati che praticano lo sport indoor, cioè le associazioni sportive che si dedicano alla pallacanestro, alla pallavolo, al calcetto professionale, e che siano di comprensorio non soltanto della città di Nocera, e rendere compatibile con iniziative di privati che vogliono all'interno di quella struttura avere degli spazi per manifestazioni e eventi di spettacolo, ovviamente riconoscendo quello che è il tributo che vi ha versato all'ente comune, che poi è il titolare. Al momento noi pensiamo comunque già in attesa di approntare un bando e quindi di disegnare lo scheletro per la gestione, lo scheletro normativo regolamentare per la gestione del servizio sul palazzetto dello sport, pensiamo anche che quella struttura debba essere da subito utilizzata per chi voglia realizzarci all'interno già da adesso degli eventi. Ci sono delle attività che saranno portate e degli eventi che saranno realizzati all'interno del palazzetto dello sport, manifestazioni di spettacolo o anche di sport, che credo di qui a breve tempo, fine mese, inizio febbraio, inizieranno a vedere le porte aperte finalmente del palazzetto dello sport.